U-S-S-S-S-Y-M-E-N-C-W-N Shao-Ling Shao-Ling La forma di difesa Quindi vuol dire che io sono Sono accettiato da persone Come ne escono qui? Come ne escono? Di queste persone La forma che vi state facendo è Perché devo crearmi lo spazio Ovviamente loro due non saranno fermi immaginate che l'ultimo è quello con cui ho un pochino più di difficoltà e scelgo di uccidere ok quindi lo lascio per ultimo perché ho pensato di quello più lento quindi io qui ho verso di lui se lui alza la gamba per venire a calciare senza ritorno su non è che sto così fanno di più ho lo stesso tempo se lui mi attacca da di qua ho uno, due se lui mi attacca intanto mi proteggo ho questo, prendi la mia mania e poi ho e vado avanti su lui in quella forma crocese quindi voi state iniziando così io sono qui, adesso dove cacchio vado cosa faccio? e cerco di muovermi nello spazio quindi ho uno due tre anche se non va colpire intanto ho creato uno spazio cosa faccio? vado anche sopra su di lui vado sotto e quindi ho dritto e vi vicino ho pam pam mi proteggo perché sono ancora qui io non so da dove arrivo intanto questa ce la metto ok? e poi vado qui vedete che lui è già pronto questa mano cosa va a fare? va a cercare di parare allora io tolgo e entro nel lato in cui ho tolto mi seguite come interpretazione di forma? sì ovviamente non è ma sarà e poi vado sono in trea non è peggio via le palle se lo ho preso ok? facciamo grazie